La lista dei creditori del Comune di Chieti è lunga e nutrita, ma oggi è iniziata la cura dimagrante che dovrebbe portare l'ente a saldare tutti, grazie all'iniezione di fiducia e di risorse anticipate dalla Cassa Depositi e Prestiti. La relativa delibera è stata approvata oggi a larga maggioranza dal Consiglio Comunale, alla presenza dei lavoratori delle società verso le quali il Comune risulta maggiormente esposto, come Formula Ambiente, Chieti Solidale, Teatre Servizi e la DISA, ma anche di altre piccole realtà cittadine. Il clamore mediatico non ha certo aiutato chi doveva con razionalità affrontare il problema. Noi abbiamo mantenuto quella calma giusta, che è la calma di chi sa di stare a fare la cosa giusta e abbiamo avuto modo di intanto costruire una delibera che ci consentisse, secondo quanto è previsto dalla legge, di poter avere un'anticipazione di 5 milioni di euro e con questi 5 milioni di euro paghiamo tutte quelle ditte grandi e piccole che nel corso del 2018 avevano emesso fatture in favore del Comune e queste fatture non erano state ancora pagate. Questo darà soddisfazione a molti creditori, darà soprattutto ad alcuni creditori la possibilità di tranquillizzare i propri dipendenti e a noi ci darà un po' di respiro per predisporre il bilancio di previsione del 2019. I Comuni in generale sono in affanno per quanto riguarda la liquidità, cioè la disponibilità di cassa. Noi scontiamo una serie di problemi strutturali, cioè di organizzazione del lavoro, ma anche una evasione che purtroppo continua ad essere ancora troppo importante nella nostra città e ovviamente questo fiacca le possibilità del Comune di poter avere soldi a disposizione per onorare i propri fornitori. È una situazione che va risolta ovviamente, è una situazione che va affrontata con un bilancio di previsione rigido, rigoroso, che però dovrà tener conto anche delle esigenze che ci sono in città e penso per prime ovviamente a quelle che riguardano le fasce più deboli e quindi le politiche sociali. Che tempi ci sono per l'erogazione di queste risorse in modo da poi corrispondere gli stipendi dipendenti? Guardi, grazie all'appoggio che abbiamo avuto in Consiglio Comunale da parte di alcuni gruppi civici di opposizione e da parte del Movimento 5 Stelle, noi oggi abbiamo possibilità di licenziare velocemente la delibera, di iscrivere la delibera nella piattaforma di cassa depositi e prestiti e entro il 30 di marzo dovremo avere le somme a disposizione per erogare a tutti quanto è loro dovuto.